Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale Oggi facciamo la sfida di resistenza per avere Ok, allora ci appendiamo, intanto voi andate ad appendervi Ci appendiamo, questa è una sfida che ci hanno suggerito Seguite le mie istruzioni, ok? Tutte pronte? Ok, mani su, 3, 2, 1, via Appese Come prima cosa, ginocchia al petto 1, 2, 3, 4, torno giù piano Gambe tese a 90 gradi 1, 2, 3, 4, scendo Resistere, resistere Potete sistemarle le mani, basta che non vi staccate Ok, sistematevi bene perché ora stacchiamo una mano Pronti? 3, 2, 1, via 1, 2, 3 Riattacco Resisto Apro le gambe a 90 3, 2, meli resisti 1, e scendo Resisti, meli Ok, meli di un Ginevra mollato, resistete Ginevra, vieni a dire una cosa che devono fare la Nelly e la Chiara Dai, veloce, veloce Ok, ovetto e tiro su le gambe Via Su, 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 di più, di più, di più 3, 2, 1, scendo piano Vai, meli, dillo Cosa devono fare? Un panino Un panino teso Via 3, 2, resistere 3, 2, 1, scendo piano Ok, faccio Tipo scimmia, camminando in qua fino a metà della parallela Dure le gambe Ok E ora Trazioni Tiro La Nelly vince questo sfido Come sono messe le mani, fatemi vedere Tutte rosse Chiara? Guarda Mamma mia Lamelle piene di Calli Ok Io no Com'è stato? Facile? No Difficile, sai Difficile Va bene Questo sfido hai vinto dalla Nelly Con le mani tutte callose e doloranti Ci salutiamo A 300 A 300 300 Like Lasciate like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Le gemelline Ok No 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 video